CLS è un'azienda di servizi a 360 gradi per il comparto portuale, dove offriamo consulenza per tutte le soluzioni di vendita, noleggio e assistenza tecnica. I Rich Stecker e Ister per container pieni utilizzati dal gruppo Spinelli sono i più veloci e performanti del mercato. Le nostre soluzioni incidono positivamente sulla produttività e sui consumi, consentendo al cliente di abbassare il posto del container movimentato. Nel terminal l'agilità e la robustezza dei nostri trattori mafi sono garanzia di affidabilità ed efficienza nella movimentazione RORO. I carrelli elevatori Ister per container vuoti, che operano al termine di questo processo, sono apprezzati dal mercato per stabilità ed ergonomia. Consentono di impilare i container fino all'ottava fila diretta in massima sicurezza, alleviando la fatica dell'operatore. È grazie al servizio di ricambi attivo H24 e alla puntualità del servizio post vendita che clienti come Spinelli ci riconoscono nel mercato come un partner di valore. Il gruppo Spinelli è ormai leader nella logistica del container business. Nasce nel 1963 come piccola azienda di trasporto. Oggi si occupa non solo di trasporto contenitori, che rimane una delle attività principali, ma anche di deposito e stoccaggio di contenitori vuoti, pieni, centri intermodali, magazzini di riempimento e svuotamento, nonché l'attività che si sta sviluppando maggiormente negli ultimi anni, che è quella di terminal portuale. Uno dei fattori di successo del gruppo Spinelli è la capacità di circondarsi di partner che hanno a cuore l'innovazione tecnologica. CLS è uno di quelli ed è una realtà che ormai opera insieme al gruppo Spinelli da molti anni e che noi consideriamo parte integrante del nostro team. Presso il Termino Spinelli gestiamo l'intero ciclo del container, dallo sbarco in barco-nave al carico-scarico camion e treni, fino al trasferimento dei container vuoti. La fase principale è lo sbarco-nave, dove necessitiamo elevate prestazioni dei mezzi per la movimentazione orizzontale e verticale. Due sono le caratteristiche che cerchiamo nei restaker, la velocità di braccio e la precisione degli spostamenti, per movimentare quasi 150 container turno. I prodotti CLS hanno queste prestazioni e garantiscono un'ottima sicurezza sul lavoro. Inoltre aumentano la produttività sotto sbarco. I tempi di fermo macchina sono ridotti grazie all'ottima assistenza tecnica.